In Curia è uno stato di degrado del manto stradale che viene rappezzato un po' alla buona, assenza di segnalettica orizzontale e pericolosi tondini di ferro che fuoriescono dai camminamenti in cemento e che possono rappresentare un serio pericolo per i bambini che giocano e anziani con difficoltà nella deambulazione in transito per recarsi nelle loro abitazioni. E' questa la desolante cartolina del quartiere del Vallato che ci presenta un abitante della zona, tra i primi a insediarsi qui e che vorrebbe maggiore attenzione del comune in questa parte della città. Ci sono i camminamenti, le beole di camminamento che sono in parte nel Vallato rifate a nuove e sta parte qua che diciamo l'ultima tratta, il totale abbandono con gradini impraticabili sia da caroselle per bambini, caroselle handicapati e anche la pedonabilità a piedi è pericolosa perché non è illuminata, non è segnata e le beole poi vedete in che condizioni sono. E' successo che c'è caduto un signore qua qualche anno fa tirato su, però vedi in che condizione è, è tolto, è venuto via. Ma da feglie l'operai? Le radici degli alberi piantati a ridosso del passaggio e il passare del tempo hanno fatto il lavoro grosso come si dice ma anche la scarsa manutenzione di chi di dovere ha fatto il resto. E ora siamo a situazioni davvero incresciose, come nel punto alle spalle dell'edicola dove gli arbusti hanno già invaso metà della carreggiata. La solita risposta è che non ci sono i soldi perché questa è una battuta per loro. Noi, il postino che comporta le bulli dell'Asia ci arriva e speriamo che arrivano anche loro a sistemarsi un po' perché come dico d'altra parte sono state fatte. Un serio pericolo, soprattutto nelle ore notturne, è dovuto dalla mancanza totale di segnaletica orizzontale. Linee di mezzeria, strisce pedonali, limite destro della carreggiata, totalmente scomparse per effetto degli agenti atmosferici. E questa è la situazione di questa parte di Vallato, come avete visto situazioni pericolose per grandi e per piccini. Ivan ci ha detto che ieri sono venuti a rattoppare alcune buche molto grosse che si erano create in questa zona della strada, però sicuramente tutta la parte sud del Vallato merita attenzione e merita soprattutto un rifacimento di alcune zone.